C'è stato il consenso unanime da parte dei soci, c'è un nuovo consiglio che voglio pubblicamente ringraziare, ma soprattutto vorrei ringraziare anticipatamente per il grande sforzo, per il grande lavoro che faranno tutti i soci e tutti i collaboratori nelle varie piazze della provincia e della città, soprattutto per quanto riguarda l'operazione delle stelle di Natale, che quest'anno, visto questo grosso problema del Covid, sarà un pochettino più ristretta, ma noi ci auguriamo e siamo fiduciosi che ci sia un ottimo risultato da parte di tutti. Quindi un grande, grande, grande grazie alla famiglia AIL, a tutti i collaboratori, a tutti i soci che nei prossimi 20 giorni si daranno da fare per sostenere questa grande famiglia che è l'AIL, che fa parte dell'AIL nazionale, chiaramente, e speriamo che qualcuno da lassù ci aiuti e ci dia una spintarella ad aiutare queste persone che sono meno fortunate di noi. Difatti noi oggi siamo qui nel villaggio AIL, nella casa AIL, una cosa stupenda, ce ne sono pochi in Italia e credo che sia un grande fiore all'occhiello di questa associazione pesarese. Massimo, vuoi descrivere questa operazione stelle di Natale? Come avverrà alle giornate in cui sarete impegnati? Saremo impegnati dal 5 all'8 dicembre, per quanto riguarda le piazze, è una cosa semplicissima, venderemo delle stelle di Natale e delle stelle di cioccolato con una donazione, vendere è una parola un po' non andrebbe bene, è una donazione per la quale si riceve questa stella di Natale o queste stelle di cioccolato. Avremo anche un punto vendita, se vogliamo chiamarlo così, davanti alla nostra sede in Via Mameli, sarà non stop, quindi per agevolare, e quest'anno per la prima volta siamo presenti anche all'interno della grande distribuzione dell'Ipercop, anche se solo per un giorno, però è stato un grosso passo ed hanno accettato di gran cuore questa nostra proposta.